continuarono a fare e rifare quelle domande e pareva che si aspettassero le risposte dal piccolo Bilbo dal che potete vedere che avevano cambiato radicalmente opinione sul signor Beckins e cominciavano a provare grande rispetto per lui come aveva predetto Gandalf ora si aspettavano davvero che lui escogitasse qualcosa come un piano meraviglioso per aiutarli e non stavano solo brontolando sapevano fin troppo bene che se non fosse stato per lo Hobbit adesso sarebbero stati tutti morti e lo ringraziarono a più riprese anzi alcuni addirittura si alzarono e si inchinarono fino a terra sebbene cedessero per lo sforzo e non riuscissero più ad alzarsi il conoscere la verità sulla sparizione di Bilbo non sminuì affatto l'opinione che avevano di lui poiché videro che aveva una certa prontezza di spirito oltre che una buona dose di fortuna e un anello magico e sono tutte e tre cose molto utili da possedere in effetti lo lodarono così tanto che Bilbo stesso cominciò a pensare di essere in fondo una specie di ardito avventuriero anche se si sarebbe sentito molto più ardito se ci fosse stato qualcosa da mangiare ma non c'era niente proprio niente e nessuno di loro era abbastanza in forze per andare a cercare qualcosa o per tentare di ritrovare il sentiero perduto il sentiero perduto Bilbo non riusciva a pensare ad altro nella sua testolina affaticata sediva immobile fissando gli alberi che si stendevano senza fine davanti a lui e dopo un po' tutti tacquero tutti dranne Balin dopo un bel po' che gli altri avevano smesso di parlare avevano chiuso gli occhi eccolo borbottare e ridacchiare tra se gollum che il cielo mi fulmini allora è così che mi hai sgusciato sotto il naso ora si capisco sei sgattaiolato sito sito eh signor Baggins bottoni sparsi su tutti i gradini vecchio Bilbo 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 e ad un tratto si addormentò e per un bel po' ci fu un completo silenzio improvvisamente Dualin aprì un occhio e si guardò attorno ma dov'è Torin? domandò fu un brutto colpo erano soltanto in tredici dodici nani e uno hobbit proprio così e allora dov'era Torin? si domandarono quale crudele destino gli fosse toccato se fosse caduto in preda a un incantesimo o a qualche mostro oscuro e rabbrividirono sperduti com'erano nella foresta poi uno dopo l'altro caddero in un sonno agitato pieno di sogni spaventosi mentre la sera si trasformava in notte fonda e qui per ora dobbiamo lasciarli troppo malconci e deboli per mettere sentinelle o assegnarsi turni di guardia Torin era stato catturato molto più in fretta di loro vi ricordate che Bilbo si era addormentato di botto quando era avanzato nel cerchio? la volta dopo era stato Torin a farsi avanti e quando le luci si erano spente era caduto giù come un sasso in preda a un incantesimo il rumore dei nani persi nella notte le loro grida quando i ragni li avevano catturati e legati e il clamore della battaglia del giorno dopo tutto era passato sopra di lui senza che egli sentisse nulla poi gli elfi silvani erano giunti lo avevano circondato e portato via già che i commensali del banchetto erano elfi silvani naturalmente non sono tipi malvagi se hanno un difetto è quello di diffidare degli stranieri e sebbene a quei tempi il loro potere magico fosse grande essi stavano molto attenti erano diversi dagli altri elfi dell'ovest ed erano più pericolosi e meno saggi infatti la maggior parte di loro assieme a quei loro parenti che vivevano sparsi qua e là sulle colline e sulle montagne discendeva da antiche tribù che non erano mai andate al paese incantato a Occidente gli elfi luminosi gli elfi sotterranei e gli elfi marini vi erano andati e vi avevano vissuto a lungo diventando sempre più belli più saggi più colti e perfezionando le loro arti magiche e la loro abilità manuale nel fare cose belle e mirabili prima che alcuni tornassero nel vasto mondo nel vasto mondo gli elfi silvani induggiavano ai raggi più miti del nostro sole e della nostra luna anche se preferivano le stelle ed erravano per le grandi foreste che si ergevano alte in terre che ormai sono andate perdute per lo più dimoravano ai margini dei boschi da cui dal volta uscivano per cacciare correre o cavalcare sulle terre aperte alla luce della luna o delle stelle e dopo l'arrivo degli uomini si erano avvezzati sempre più al crepuscolo e alla penombra tuttavia elfi erano e elfi rimangono in una grande caverna a qualche miglio del limitare del bosco tetro sul lato orientale viveva allora il più grande dei loro re davanti ai suoi grandi portali di pietra scorreva un fiume che sgorgava dalle alture della foresta e serpeggiava sulle terre di confine ai piedi degli altipiani boscosi quella grande caverna sulle cui pareti se ne aprivano innumerevoli altre più piccole si inoltrava profondamente sottoterra e molti passaggi e vaste sale ma era più luminosa e più salubre delle timore degli orchi e non era tanto profonda né tanto pericolosa in realtà i sudditi del re vivevano e cacciavano per lo più nei boschi aperti e avevano case o capanne sul suolo e sui rami i faggi erano i loro alberi preferiti la caverna del re faceva da casa a lui da forziere al suo tesoro e da fortezza contro i nemici a tutto il suo popolo essa serviva anche da prigione per i suoi prigionieri così vi trascinarono Thorin non troppo gentilmente temo poiché non amavano molto i nani e lo credevano un nemico in tempi passati erano stati in guerra contro alcuni nani che accusavano di aver rubato loro il tesoro per correttezza bisogna dire che i nani davano un'altra versione dicendo di aver preso solo quanto gli spettasse poiché il re degli elfi aveva stipulato un contratto con loro per fondere l'oro e l'argento grezzo che aveva e poi si era rifiutato di pagarli infatti se il re elfico aveva una debolezza era per i tesori specialmente per l'argento e per le gemme bianche e benché la sua riserva fosse abbondante era sempre avido di arricchirla perché il suo tesoro non era così grande come quello degli altri signori elfici del passato il suo popolo non estraeva dalle miniere né lavorava metalli o gemme e non perdeva tempo a commerciare o coltivare terra tutto ciò era ben noto a ogni nano anche se la famiglia di Thorin non aveva avuto niente a che fare con la vecchia lite di qui sopra di conseguenza Thorin si infuriò per come l'avevano trattato quando tornò in sé dopo che lo ebbero liberato dall'incantesimo e decise che non gli avrebbero cavato neanche una parola sull'oro o sui gioielli il re guardò severamente Thorin quando gli fu portato davanti e gli fece molte domande ma tutto ciò che Thorin disse fu che moriva di fame perché tu e i tuoi avete cercato per tre volte di attaccare i miei elfi durante i miei festeggiamenti domandò il re non li abbiamo attaccati rispose Thorin venivamo a chiedere l'elemosina perché morivamo di fame dove sono i tuoi amici allora e cosa stanno facendo non lo so ma immagino che siano rimasti nella foresta a morire di fame e cosa facevate nella foresta eravamo alla ricerca di qualcosa da mangiare e da bere perché stavamo morendo di fame ma cosa siete venuti a fare nella foresta domandò il re con un briciolo di rabbia a quel punto Thorin serrò la bocca e non disse più una parola benissimo disse il re portatelo via e tenetelo al sicuro finché non si sente propenso a dirci la verità dovesse metterci mille anni allora gli elfi lo legarono con cinghie di cuoio e lo chiusero in una delle loro caverne più recondite chiusa da robuste porte di legno e lì lo lasciarono gli dettero da mangiare e da bere e in gran quantità anche se non di gran qualità gli elfi silvani infatti erano ben diversi dagli orchi e si comportavano con discreta correttezza anche verso i loro peggiori amici quando li facevano prigionieri per lo meno i ragni giganti erano i soli esseri viventi di cui non avessero pietà lì nelle celle del re giaceva il povero Thorin e dopo il grato stupore per il pane la carne e l'acqua cominciò a domandarsi cosa fosse successo ai suoi sfortunati amici non ci volle molto perché lo scoprisse ma di ciò si tratterà del prossimo capitolo in cui è descritto l'inizio di una nuova avventura nella quale lo Hobbit dimostrò ancora una volta la propria utilità c'è